Stanno circolando in rete delle nuove fotografie di Flavio Briatore, che lo ritraggono in mare in buona compagnia L'imprenditore è, ormai da molti anni, uno dei volti più amati del mondo dello spettacolo tanto da essere un vero punto di riferimento per milioni di persone Alle spalle ha infatti l'apertura di varie aziende e attività, che gli hanno permesso di arricchire sempre di più il suo bagaglio di esperienze Briatore è inoltre stato sposato con la showgirl Elisabetta Gregoraci, da cui ha avuto il figlio Nathan Falco Ad attirare l'attenzione sono stati adesso alcuni scatti che ritraggono il famoso volto dell'imprenditoria alle prese con un po' di relax e divertimento Flavio Briatore in compagnia, coccole e abbracci.Come accade ogni anno, anche stavolta l'ex di Gregoraci è partito in luoghi lontani e si è lasciato andare a giorni pieni di relax e di puro divertimento Flavio Briatore non era ovviamente solo, ma ha potuto godere della compagnia di una persona che è sempre stata importantissima per lui Si tratta di suo figlio Nathan Falco, nato dalla sua intensa e lunga storia d'amore con Elisabetta Gregoraci I due genitori sono anche rimasti in ottimi rapporti negli anni, e hanno fatto spesso le vacanze insieme Anche questa volta, Briatore si è mostrato in compagnia di suo figlio, che è giovanissimo e che è molto legato al papà L'imprenditore ha infatti trascorso queste festività nel bellissimo luogo della Sardegna, in cui si reca spesso ogni anno e in cui anche stavolta ha trascorso qualche giorno con il figlio in barca Buon ferragosto a tutti, ha scritto lui dopo aver postato la fotografia sul suo account social ufficiale Nello scatto in questione, lui è infatti sdraiato e Nathan Falco ha la testa poggiata sulle gambe di papà Flavio Quest'ultimo indossa inoltre una maglietta nera e dei pantaloncini e, intanto, dimostra appieno il grande affetto che sente per suo figlio In più occasioni si è infatti mostrato in sua compagnia, durante le vacanze ma anche nel corso di alcune sue attività lavorative, dato che Nathan Falco ha sempre respirato il mondo dell'imprenditoria sin da quando è nato Numerosi sono stati insomma i commenti scritti dai fan, che non hanno perso l'occasione per commentare e per complimentarsi con loro La tenerissima foto è infatti diventata subito virale e ha fatto subito il giro del web, tanto da attirare l'attenzione del grande pubblico italiano